E' la mia prima volta in Cina, è stato curioso e interessante arrivare in piena notte e vedere la vastità di Pechino tutta illuminata. Abbiamo passato qualche ora in aeroporto per prendere bagagli, sci eccetera. Poi sono stati super organizzati perché ci hanno subito fatto trovare fuori dall'aeroporto un bus che entro un'ora e mezza ci ha portati qua a Wanlong. La temperatura qua, appena siamo scesi dal bus, è stata veramente interessante, veramente un gelo infernale, un po' che eravamo stanchi perché non abbiamo dormito tanto in aereo in dieci ore, eccetera. E poi adesso diciamo che in tre giorni ci siamo già climatati bene. Stiamo dormendo nelle camerette con il tatami, anche questa qua è un'esperienza nuova e al momento sembra tutto perfetto, vediamo poi in gara.